La partita a Vispesaro-Isernia, valida per la 29esima giornata del campionato nazionale di Serie D, è stata preceduta dalla simbolica inaugurazione dello Stadio Benelli senza barriere. Alla cerimonia del taglio del nastro da parte del sindaco di Pesaro, Luca Ceracioli, hanno preso parte il presidente della Vispesaro, Claudio Bandolfi, il presidente della provincia, Matteo Ricci, i dirigenti federali, tra i quali Paolo Ceglini, presidente del comitato regionale Marche della Lega Nazionale Direttanti. Si parte con la Visse che spinge subito sull'acceleratore e con un paio di calci di punizione prova ad impegnare Tomarelli, resta per qualche minuto al sesto in 10 di Sernia per un duro contatto in area di De Rosa. Al decimo la prima conclusione vera della Visse con Cremona, bella la risposta del numero uno bianco celeste Tomarelli, sicuramente bravo. Angolo dodicesimo da destra calciato da Bugaro, traiettoria bassa all'altezza del primo palo, respinge con grande autorità Fontana. La pressione della Visse si fa con il passare dei minuti sempre più insistente, in pratica la partita si gioca nella metà campo dell'Isernia. Al sedicesimo da sinistra mette dentro Ridolfi, nessuno si fa trovare pronto per la deviazione sottomisura, occasione mancata dai ragazzi di Mister Magi in tribuna per squalifica. Ospiti sostenuti da una trentina di fedelissimi, minuti corrono ma il risultato non si sblocca. La Visse stenta, calcio di punizione 29esimo, lo batte dalla trequarti destra a Bugaro, palla in area controllata bene dai bianco celesti. Prova ad accelerare Ridolfi 31esimo, conclude per via centrale Omiccioli, pallone che non inquadra la porta. Si fa avanti l'Isernia con Cirillo, uno dei più interessanti del team bianco celeste, il quale cerca di prendere per mano la formazione di Califano nel tentativo di creare qualche opportunità. 41esimo, doppio angolo in favore dell'Isernia, senza successo. 45esimo, Ridolfi ruba palla, mette in area di rigore, il centrale della difesa bianco celeste rinvia, ma con uno strano rimbalzo manda forse la sfera a toccare il braccio. L'arbitro non interviene. La ripresa si avvia subito il primo con una gran botta di Alberto Torelli, pallone che si impenna e finisce la sua corsa sul fondo. Al quarto Ridolfi affonda sulla corsia di destra, ma guadagna solo l'ennesimo calcio d'angolo. Non è giornata per il bravissimo giocatore Vissino. Esce sesto di Carlo per far posto a Giorgio Torelli. Si ferma il gioco, nono per un infortunio capitato a Cremona. Martella la Visse, ma non trova gli spazi per piazzare la botta vincente. 16esimo, fermato in posizione di fuorigioco Cremona. Visse che cerca di schiacciare l'Isernia. 16esimo, ci prova Bugaro dalla bandierina di sinistra del fronte offensivo Vissino. Isernia schiacciata negli ultimi 16 metri, ma non subisce. 20esimo, Ridolfi ci prova ad affondare, ma ancora una volta la retroguardia ospite si chiude al meglio. 22esimo, ancora un cambio nelle file della Visse. Esce Martini, entra Pieri. Continua a menare la danza alla Visse, ma non trova la giocata vincente. 30esimo, ci prova Pieri, ma la difesa ospite lo chiude. Cerca il gol Ridolfi, 31esimo. La difesa ospite ancora una volta si chiude di fronte all'attacco del rosso dei biancorossi. Gran botta ancora di Ridolfi, deviazione di un difensore ospite. Tomarelli mette tutti d'accordo boccando la sfera, entra a 39esimo Damizia, lascia al posto a Gasmi che si propone subito. Calcio di punizione, 42esimo affidato a Bugaro, alla destra dell'area di rigore ospite. Pallone che supera di un niente l'incrocio dei pali alla sinistra della porta, difesa da Tomarelli. 45esimo, ancora miracolo, Tomarelli protagonista sulla conclusione di Pieri. Il bombardamento finale di Marcavisse, ma il gol non arriva, lo 0-0 inevitabile.